Aumento notevole di possibilità di trasmissione di malattie infettive che si possono trasmettere per via aerea come meningococco, pneumococco, streptococco. Questo quanto certificato dagli ispettori della ASL di Pescara dopo un controllo che ha fatto emergere giorni fa una condizione di sovraffollamento presso il centro di accoglienza e soggiorno per immigrati nella frazione di Castellana del comune di Pianella. Infatti la struttura prevede una recettività massima di 9 persone contro le 14 presenti al momento dell'ispezione sanitaria. Subito l'intervento del sindaco del comune Vestino Sandro Marinelli che attraverso un'ordinanza ha ordinato con effetto immediato il ripristino delle condizioni igienico e di sicurezza mediante la chiusura dello stesso CAS. Non ci siamo tirati indietro nel momento in cui l'emergenza ci vedeva coinvolti con l'apertura del CAS a Castellana, abbiamo però sempre ritenuto opportuno e doveroso controllare che fossero rispettate tutte le condizioni igienico-sanitarie e di ordine pubblico. Per ben due volte questo non è avvenuto perché prima nel 2018 la Polizia Municipale aveva già verificato un sovrannumero e un'irregolarità nella somministrazione dei pasti. Adesso la ASL qualche giorno fa durante un servizio ispettivo ha verificato di nuovo un sovraffollamento. A quel punto evidentemente la prefettura e gli stessi gestori del CAS hanno ritenuto opportuno e necessario chiudere la struttura e quindi è stata dismessa di fatto la struttura su Castellana e gli ospiti probabilmente sono stati trasferiti su altre sedi. Contrario alla chiusura il proprietario del bed and breakfast che ospitava il CAS di via Fonte Catena. Giorno 12 sono andati via venerdì poi non so cosa è successo non lo so questo io non mi riesco a spiegare cosa è successo comunque questo è tutto hanno fatto tutto non so con chi o chi per me o chi per non lo so questo posso dire perché questo è quello che so